Sono troppi i disagi che gli inquilini delle case popolari di Via Ciria a Cremona devono sopportare da anni e che Aler lascia senza risposta, tanto che alcune persone esasperate hanno deciso di andarsene. Quali sono i problemi qui? Tutti, cioè dalla muratura, dal sistema che hanno loro di risposta, che dicono sì, veniamo, passiamo, guardano e poi non fanno più niente. Io sono otto anni che sono qui e non ho mai visto una persona venire per mettere a posto. È un anno che sto aspettando di fargli mettere a posto quel buco della televisione. Ho dovuto io spendere, vede quella cassettina là, per mettere i figli un po' in ordine. Poi quando ho visto che sia anche il giardino fuori, siano i canali, siano anche i terrazzi fuori, tutto il resto, insomma sono passati anni che non fanno proprio niente. Le spese condominali richieste sono esorbitanti. Io ho quasi 2.000 euro da dare a loro, anche se pago mensilmente una quota, però adesso sono arrivati altri pagamenti e sono circa 2.000 euro. È impossibile. E voi vivete con una pensione minima? Esatto. Ho deciso poi di andare ancora con la mia compagna perché non possiamo vivere così. E cosa faccio? Quindi adesso dove andrete? Vado a casa sua. Gli infissi non isolano termicamente e le tapparelle rotte non vengono aggiustate. Lei vede che il vetro è sottilissimo, poi è tutto in ferro e poi quando c'è stata la tempesta, che sono venuto io otto anni fa, tanto per farne un esempio, la tempesta ha rovinato tutte le tapparelle fuori. Allora ho chiesto per cortesia se me le cambiavano, ma hanno risposto che non tocca a lei. Siccome ho visto che questo è il comportamento che hanno, allora io vado via.